...di Miss Inverno, tutta l'amministrazione comunale, non solo il comando della Polizia Municipale e la Rami 104 e anche in particolare chi ha dato una mano importante, anche qui non è stato semplice, per lo studio fotografico di presentazione del concorso che è avvenuto come sempre Miss Inverno la settimana prima domenica scorsa e quindi responsabili dell'aeroporto Clemente Panero, dell'aeroclub Sauna e Riviera Libre e dell'ippodromo dei Fiori e qui fatevi fare un applauso da tutti loro perché domenica scorsa non c'era tempo bellissimo diciamo che è andata benissimo in aeroporto, poi all'ippodromo pioveva, sono state veramente stoiche, bravi, il nostro staff sta passando a ritirare il Moto Ox Populi, mi raccomando perfetto, allora, chiamiamo sul palco intanto Elvira, Elvira Sotella e la nona, la nostra amica quando c'era, quando c'era, quando c'era, quando c'era, quando c'era, quando c'era, quando c'era venita, la nazionale, però voglio dire letteralmente perché Elvira è stata una parte molto importante in Miss Inverno perché non soltanto per quanto riguarda il suo lavoro, il suo mestiere, con allora quindi le accocciature delle ragazze eccetera ma anche proprio a livello organizzativo per cui è stato un supporto sul territorio assolutamente fondamentale che vi grazie davvero non ci lascerai mai, vero? e mira è tua proposta ma sei sicura? perché ci teniamo e quindi dobbiamo farlo dire davanti a tutti è vero, è vero è vero, allora io so che c'è un bouquet di fiori vorrebbe esserci un bouquet di fiori Alessandra ma si stanno facendo Alessandra si stanno facendo le fiori ma sai un bouquet di fiori non tagliamo le triche il bouquet è una rosa bravi ma si va a prendere tutto da scuola tanto sai dov'è stavano andandosi a prendere il fiori qua siamo noi così è vero allora un bouquet e una rosa ok un bouquet per Elvina bravissime non è giusto? non è giusto? va bene va bene allora intanto adesso diminuiamo questo piccolo nome intanto volevo iniziare Federico Mattia tutti i ragazzi sono occupati della sicurezza questa sera Ivanna Alessandro Domenica e Alessandra assolutamente che hanno curato il backstage hanno dato una mano alle ragazze hanno consegnato i fiori che più o meno adesso consegnano anche questi e poi ecco ci sono ecco i fiori Domenica anche per il trucco Domenica anche per il trucco di Anna Fiori che anche quest'anno lo di Anna Fiori era con noi anche lo scorso anno a Miss Inverno e ha veramente dato insomma un tocco di bellezza in più con il suo impegno con il suo lavoro a Miss Inverno quindi grazie davvero ad Anna Fiori grazie anche a Nelvira che dice tornerà più tardi vero che possiamo lasciarlo andare? Certo molto grazie a voi che avevo preparato le annunciature per la prossima edizione perché c'era un anno prima di iniziare con il trucco allora io ringrazio gli sponsor di Pascia Pasta Fresca Morena di Ventimiglia Stefania Merello di Genova Nelvira e Nelvira della Testa di Villanova Locata Tralmura di Villanova Immobiliare 10G di Villanova Viva Gruppo Pasticceria Dolcemente a Villanova Macelleria Peraldo a Villanova Mickey Evans Genova Ruote d'Epoca e Osteria di Sì di Villanova io invece ringrazio i partner di Vistingar 2002 e il 2002 ci metterò un pochino però devo ringraziare tutti a delle edizioni il ristorante Fioralbisola Acqua Minerale Calizzano Stanzale Palazzo Rota Il Varetto Mega Viaggio De Viva Bar Dietro La Posta Pasticceria Torretta Pasticcio Poggio Osteria Mancaglia di Alassio Pagnofiato Verlamenta Marilena Lucanza Zio Pepe Ristorante 6.0 Paffancia Ranaldo Dimensione Cucina Il Coch La Bottega del Pescato Bar Chibon Acamea Ristorante Ristorante Pezzeria Di 10.0 In Traorica Oricchio Francesco Edicola La Testata Agenzia Biaggi C-Travel E Amiglianito Tardes Andrea Ma quanti sono Grazie a tutti a tutti a fotografia Paolo Bianco Per i Servi Salve Con C-Emilio No Lavora La Secolo La Stampa La RQG C-Emilio News Salve News Veramente qua Sono stati Tutti Non ne voglio dimenticare Comunque sono stati Veramente Tanti Ringraziamo L'ultima volta Anche gli ospiti Che hanno partecipato E una fece Corina Marodi Mattrio Mattezzoni Di buona lezione Ha ripreso Fatemi Arcarisi Allora Facciamoci Spaccare 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 Tocca a te Chi devi dire Allora Alessandra Alessandra Ve li porti Due bouquet Così Un paio di bouquet Così almeno Pensa che prima Riconosce La Gianluca Fier Guarda 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 Facciamo la Pasterla Grazie Guarda Pasterla Ecco 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 E voilà Per le due Sullenti Dei concluderci Di questa sera Cristina Di Stietano E Gloria Cusina Grazie a voi Adesso Adesso Lo facciamo Con i C'è 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 Vabbè Meglio Così D'anno scorso L'ho Cato Sul Pubblico Allora La giuria Vediamo Se Vediamo Quale La situazione Di Giuria La Sì La 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 Grazie a tutti